Economia circolare vuol dire passare dal modello lineare di economia, materia rifiuto, ad un sistema dove il rifiuto diventa risorsa, quindi ad un sistema dove ciò che è scarto per alcuni è esattamente opportunità per altri. Questo abbiamo scritto nella legge, l'abbiamo declinato in termini di azioni e soprattutto in termini di obiettivi sfidanti, in questo dandoci al 2020 l'obiettivo della riduzione e quindi della prevenzione, sprecare il meno possibile, produrre meno scarto e meno rifiuto, al 2020 quindi con il 25%, abbiamo inserito l'altro grande obiettivo sfidante che è quello della differenziata del 73% e del 70% di recupero di materia. Questo vuol dire investire su una forte economia e vuol dire industrializzazione del riciclo. Tanta parte dell'economia circolare passa anche attraverso la salvaguardia più complessiva del capitale naturale, passa attraverso l'idea per esempio che noi guardiamo e rispondiamo anche strategicamente ai cambiamenti climatici e in questo attraverso azioni e che di salvaguardia della biodiversità, di sostegno e valorizzazione degli ecosistemi sino alla remunerazione anche dei servizi ecosistemici.